Un filato interstagionale, leader delle nostre produzioni, che viene ripresentato per la stagione estiva nei titoli 2.12 e 2.26, entrambi adattissimi all'attacco di stagione primaverile. Partendo da una sapiente tecnica di riciclo, lavoriamo un 100% di fibra certificata GRS nel titolo 2.12, mentre nel 2.26 viene mischiato con un 50% di fibra nuova, ottenendo in entrambi ottima tenuta e lavorabilità. A richiesta la sua caratteristica ecosostenibile viene supportata da un cartellino che ne certifica la qualità e ne informa il consumatore finale. Lavorabile alla finezza 7 o 12, si propongono per capi rasati, compatti, fatti di forme generose e insolite, di piccoli punti strutturati, di contrasti di colore anche molteplici, che sono rese possibili da un'ampia cartella a stock service, contrassegnati dal simbolo coccinella. I colori a campione, se compatibili con le materie prime usate, si realizzano sia in mélange che in unito con un minimo di 50 kg.